Siamo al Molo 16, come potete vedere proprio sull'East River, vi sto facendo vedere l'Ambrose. Queste sono navi visitabili con i biglietti del Seaport Museum, mentre il veliero mastodontico, che vedete più in lontananza, è la Weaver Tree. Ecco qua, lo avreste detto, che a New York City potete ammirare anche dei velieri. Guardate da questa prospettiva l'imponenza della Weaver Tree. E come vi ho detto, è ormeggiata al Molo 16, nel South Street, Seaport Street. Grazie. Grazie a tutti.